Inizia in questo momento il match, forza ragazzi, palla dentro, la mancano tutti, il salvataggio e si fa male Andanovic. Ancora Correa, va al tiro e c'è la grande parata di Samira, è bravo questo ragazzo. Palla per Palassio, può caricare il destro, il tiro, miracolo di Viviano. Lato corto di sinistra, l'uno contro uno con Pereira, prova ad andare, finge il colpo di tacco, si ingamba, va il cross comunque, c'è il pallone lì, ma no! No, era regolare! Attenzione Correa, entra in aria, è solo, pericolo il tiro, salvataggio, ma non ci voglio credere, ma ci credo perché mi fa comodo. Il cross pericoloso, il gol della Santo. E qua che bravi che sono stati. Il bel giropalla, il cross di prima intenzione, Medela è tagliato fuori, giropalla per Perisic, c'è Guarini accanto a lui, ecco l'ho servito, portando il cross dal fondo, il colpo di tacco! Mancato da Palassio! Cross dentro l'aria, Icardi, una mischia, palla che rimane lì, rigore questo, il tiro, è gol, 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 Ivan interribile! La palla rimane lì, c'è il tiro, braccio largo, braccio largo, ancora per Icardi che aggancia bene l'entrazione di rigore, poi il colpo di destra viene in tuffo, è una parata di Viviano. Eccolo qua, attenzione, finta contro finta, la mette fuori, Felipe Melo carica il destro, il tiro! È un raso a terra che passa in mezzo a mille gambe. Finisce 1-1 tra Sampdoria e Inter, un pareggio che forse accontenta la Sampdoria, non noi. Finisce 1-1 tra Sampdoria e Inter.